Dove vengono nominati miglior gruppo dell'84, ancora attività sociali, stavolta a favore dei minatori inglesi e stupende canzoni. Paul riceve la più alta carica in Inghilterra per l'anno internazionale della gioventù. Paul Weller dichiara che il rock è morto e che la loro è un'altra cosa, è musica giovane e si tratta ancora di stupende canzoni. Nella bellissima Walking the Night, passeggiando nella notte, accompagnato dal suo gruppo, The Style Council. Applausi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada